Sì, decisamente sì, sì, sì. No, non credo che abbiano avuto in mente quel fatto di una partita da giocare così, sono stati prudenti, attenti per sbagliare con tanti di quei gol che mi sembra che nella gestione potevamo anche finire primo tempo 4-1, secondo tempo facendo un gol in più. La stratta di Bacu è meglio farla in un altro momento invece che prima del derby magari? Beh, questo si è detto da subito, però c'è e quindi dobbiamo andarci. Grazie.